La Forza Italia si è presentata dal 1994 ad oggi come una forza di centro capace di federare e di contenere, anzi anche di trasformare il Miss in alleanza nazionale e accelerare dei processi. Le chiedo oggi con la destra che c'è, come fa un liberale a salire sul palco con persone che indubbiamente hanno legittimamente delle posizioni radicalmente diverse dalle vostre. Salvini non è il bossi del federalismo. E' un'altra cosa, dice Parenzo, e nel frattempo Berlusconi è marginale. Ma ve lo ricordate bossi? Scusate, ma bossi era quello dei fucili per rosso eccezione, ma confronto Salvini e un Doroteo? Ma di cosa state parlando? Beh, adesso Salvini e Doroteo... Scusate, 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 ti ho ascoltato, adesso ascolti me. Io il giochino lo capisco benissimo qual è il giochino. No, ma non c'è il giochino. Scusami, dividerci. Giochini, cara... Perché no, scusami Parenzo, però lasciami parlare. No, no, prego, prego. Perché uniti, noi prendiamo tutto, facciamo l'asso pigliatura. Prendiamo tutte le regioni e prendiamo il governo. Tant'è che non ci fanno votare, perché stanno benissimo. Tant'è che quella era una piazza bellissima, piena di famiglie, piena di persone che io temo lo rafforzerà pure sto governo. Perché qual è il collante di sto governo? Il terrore, la consapevolezza che nel paese c'è quella roba lì. Quello era il paese reale, il centrodestra unito. Voi vi accanite sul Pantheon, sui leader, quello umiliato, quello è suddito, quello è zio, quello è nonno. Ma che dite? L'elettorato nostro ormai è un elettorato che pensa in unità. Ma sui temi, sì, io immagino che sui temi sia divisi. Posso, Parenzo, però le dico tutto? Sì, però il minimo di... Sui temi, sui temi, i valori fondanti, e glielo dico da liberale, sono tutti uguali e soprattutto antitecici a quelli di sinistra. Cioè mi fa sorridere che voi diciate che Renzi è la nuova Forza Italia quando Renzi sostiene un governo col PD e l'EU. Ma di cosa state parlando? Le cose si vedono coi fatti. Andare oggi con Renzi significa andare con il governo più a sinistra della storia. Noi stiamo in un'area di centrodestra, e mi perdoni Buccini, non sono d'accordo su quel che ha detto, perché la legge elettorale verrà rifatta. E ricordiamoci che c'è un referendum, un pendente sul maggioritario. Allora, se dovesse arrivare il maggioritario, o come io credo, più probabilmente un proporzionale con premio di maggioranza, perché Zingaretti dovrà mettere nell'angolo Renzi, non gli potrà consentire di fare il partitello di centro, che poi fa l'ago della bilancia, scusate, col 5 o col 10%, quanto farà io gli auguro di fare anche bene. Io gli avversari in bocca al lupo, la Leopolda la rispetto, 60 tavoli, gli rispetto, le persone che erano lì. Quindi Renzi non è un concorrente da lei. Però, scusi, pretendo che venga rispettata la mia piazza, dove non si è visto un braccio alzato, dove, io mi ricordo, scusate, giornalisti che dicevano che Berlusconi sarebbe stato fischiato. Berlusconi è stato applaudito. No, scusate, però no, però facciamo un racconto per intero. Perché dice, Berlusconi arriva e Salvini sale e fa una premessa a tutela di Berlusconi. Ma non è così, è comunque bene, è comunque bene, è dimostrazione dell'unità. Noi avevamo un patto, già prima, pre-voto, che era il leader del partito che fa il miglior risultato, è il leader della coalizione, punto. Per questo punto, cioè non è sudditanza, è una regola matematica. Per l'unità, domanda di Buccini all'onorevole Nobili. Ne devo fare due, una propedeutica. Va bene, tra l'altro ricordando che ieri sera Zineretti, che è un po'...